buongiorno benvenuti a questa lezione in cui parleremo di come fare ad introdurre più pagine in un'applicazione react che è quello che poi sostanzialmente sperimentate o quantomeno vi sembra di sperimentare in tutte le applicazioni web dico vi sembra perché appunto in react come in molti altri framework la cosa sarà un po' virtuale però l'apparenza è la stessa quindi prima di tutto cercheremo di capire qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e quali sono i problemi e diciamo le opportunità collegate ad avere più pagine nella propria applicazione web e poi vedremo come fare questa cosa all'interno di react tramite questo router bene iniziamo come vedete abbiamo sottotitolato questa sezione single page application ma con più pagine quindi il concetto è quello sempre delle single page application c'è un framework che gestisce lo stato e così via ma vogliamo avere l'apparenza diciamo delle applicazioni tradizionali che utilizzano più pagine quindi caricano nuove pagine nel momento in cui ci sono nuove viste da visualizzare questo perché supportare applicazioni web complesse chiaramente ci richiede di fare tutta una serie di operazioni che appunto devono avvenire come per esempio cambiare dei layout di pagina nel momento in cui volete fare l'autenticazione vi interessa inserire username e password e vedere sostanzialmente solo quegli elementi nel momento in cui volete visualizzare una lista di qualcosa vi interessa appunto avere quella lista magari in una pagina apposta e non avere null'altro nel momento in cui dovete navigare all'interno di un sito web più dinamico con dei menu eccetera vi interessa di nuovo cambiare vista quindi cambiare layout sostanzialmente della pagina questo diciamo sarebbe più facile se noi avessimo la possibilità di definire appunto sostanzialmente differenti layout all'interno della stessa applicazione cosa che non è impossibile da fare in questo momento parlando di react però è sicuramente abbastanza macchinoso e complicato nel momento in cui abbiamo a che fare con applicazioni web complesse anche gestire il flusso di navigazione diciamo tra i vari layout quindi chiamiamole pure tra le varie pagine cominciano a diventare complicato e quindi abbiamo bisogno di qualche strategia che ci consente di fare questa operazione nella maniera più naturale possibile inoltre l'utente è abituato a utilizzare il browser in una certa maniera sostanzialmente utilizzando anche i bottoni back e forward che ci consentono di andare avanti e indietro all'interno della storia diciamo delle nostre pagine web visitate a mettere dei bookmark per certe specifiche pagine e così via tutte queste cose diventano complicate in una single page application per come l'abbiamo vista finora che sostanzialmente carica un'unica pagina esempio diciamo così sulla index la pagina di default caricata all'inizio tutto avviene all'interno della finestra stessa senza che ci sia questo concetto di pagina inoltre nel momento in cui diciamo introduciamo queste queste layout che cambiano a seconda della pagina che vogliamo visualizzare vorremmo che di conseguenza venisse anche aggiornato l'url che è presente nella barra in cima del browser che poi diciamo quello che eventualmente andiamo a utilizzare per il caso precedente come dicevamo i bookmarks quindi quando salviamo un bookmark ci salviamo l'url della pagina inoltre nel momento in cui cambiamo pagina magari vorremmo poter caricare del nuovo javascript che è la cosa che facciamo tipicamente quando carichiamo realmente una nuova pagina all'interno di un browser web si leggono i nuovi script tag e si carica del nuovo javascript facendo in questa maniera non vorremmo però perdere la caratteristica diciamo che hanno le applicazioni web client side quindi le cosiddette single page application che è quello di mantenere lo stato il loro stato perché nello stato codifichiamo tutta una serie di informazioni utili alla visualizzazione e al funzionamento dell'applicazione stessa e quindi noi vogliamo avere la possibilità diciamo così di cambiare pagina ma senza perdere l'informazione di stato vediamo alcuni esempi diciamo del perché vogliamo fare una cosa di questo tipo proprio in pratica prendete un sito che sicuramente conoscete è molto popolare vedete che abbiamo a seconda della modalità in cui ci troviamo nella stessa finestra del browser differenti layout e tipi di contenuti quindi adesso per la verità io lo uso poco facebook quindi non è che mi orizzonto tantissimo però sostanzialmente nel momento in cui avete che so la timeline e non avete e andate a leggere quello che le persone hanno scritto non avete che so tutta una serie di link di navigazione che vi possono tornare utili per la gestione del sito così allo stesso maniera potete avere pagine diciamo immagino di statistica o comunque di qualcosa di questo tipo piuttosto che altri tipi di layout e contenuti diciamo che sarebbe bene stessero su appunto pagine differenti pur avendo delle cose in comune perché siete sempre sullo stesso sito facebook e magari avete appunto per esempio notate qui sulla destra parti in comune e così via però diciamo c'è una gran parte della della vista diciamo all'interno della finestra del browser che cambia e cambia anche dal punto di vista del significato e come avrete notato in facebook di fatto non avviene mai un ricaricamento intero della pagina quindi però potete e vedete anzi cambiare l'url in cima alla alla pagina stessa quindi l'url visibile nella barra di navigazione del browser e a seconda di dove vi trovate avete degli url differenti e quindi diciamo che questo è proprio un esempio di un'applicazione complessa che usa sostanzialmente le tecniche che adesso andremo a vedere per evitare di ricaricare la pagina ma dare la stessa impressione diciamo di navigazione a cui siete abituati con un sito diciamo così più tradizionale alcuni casi d'uso che ci possono venire in mente per esempio per la creazione dove diciamo sarebbe bene usare pagine per creare layout differenti e che so avere una lista una lista principale poi cliccando su un elemento avere una vista dettagliata dell'elemento stesso mandando via la lista principale e poi ovviamente poter tornare indietro e così via pagine nelle quali siamo autenticati piuttosto che non autenticati quindi logged in o logged out la possibilità di avere di navigare tra diverse pagine tramite una sidebar quindi poter cliccare degli elementi e diciamo muoversi all'interno delle varie pagine che compongono la nostra applicazione oppure il contenuto di tipo modal nel senso che blocca tutto il resto mi compare una finestra con la quale dovete interagire e dovete per forza interagire con quella finestra e bloccate tutto il resto e poi diciamo gli esempi possono essere tanti in un'applicazione complessa avete che so il contenuto dell'applicazione principale quindi quella che l'applicazione fa piuttosto che i vari profili pagine di settings di configurazione e così via quindi ci sono molte ragioni per la quale si vuole continuare a strutturare un'applicazione web sotto forma di pagine come un'applicazione diciamo tradizionale qui vediamo un esempio tratto dall'esempio che vi mettiamo a disposizione poi su GitHub che quindi è stato riorganizzato in questa maniera sostanzialmente con tre pagine c'è la pagina principale dove è presente la lista delle informazioni che mi interessano questa applicazione è chiaramente molto semplice solo di esempio per far capire e quindi è mantenuta semplice anche volutamente nel momento in cui però faccio delle azioni per esempio clicco su add e vorrei spostarmi in una pagina add dove è possibile tramite un form inserire una nuova informazione in questo caso un nuovo film nel momento in cui invece clicco sull'occhiolino quindi sul bottone che mi consente di avere maggiore informazione su un certo elemento voglio potermi muovere su una pagina e tra l'altro questo URL appunto dovrebbe consentirmi di capire che sono su questa pagina ma anche indicare possibilmente qual è l'elemento nel quale sono interessato così che ne posso fare appunto un bookmark come dicevo prima quindi non essere solo detail e avere la stata al suo interno ma esporlo anche sul URL tramite appunto l'ID dell'elemento qualcosa di simile abbiamo visto quindi che è importante di fatto capire l'interazione che dobbiamo avere con gli URL e che URL diciamo dobbiamo utilizzare per pensare alla nostra applicazione perché di fatto l'URL è quello che determina il tipo di pagina o di sezione del sito web che stiamo visitando nel momento in cui ci muoviamo di pagina dovrebbe cambiare l'URL come capita nelle applicazioni web diciamo tradizionali e viceversa se io cambio l'URL deve succedere anche il contrario cioè nel momento in cui cambio l'URL deve cambiare anche la pagina l'URL spesso includono anche informazioni riguardo a quello che stanno visualizzando abbiamo visto prima l'item id quindi questo identificativo che ci dice che cosa stiamo visualizzando eventuali rfr categorie filtre eccetera eccetera quindi query URL sotto forma di query e così via gli URL sono gli elementi che può essere condiviso salvato messo in un bookmark e così via e dovrebbero essere sufficienti per ricostruire esattamente la stessa identica pagina se io mando un link a un mio amico condividendoglielo voglio che nel momento in cui acceda a questo link veda quello che sto vedendo io chiaramente se non è soggetto ad autenticazione però sostanzialmente questo è quello che vorrei che succeda nel momento in cui faccio funzionare gli URL in questa maniera vorrei anche poterli poi navigare tramite i bottoni avanti e indietro del browser che ci consentono di navigare nella storia degli URL che sono passati nella barra del browser questi sono gli esempi degli URL visibili su facebook.com slash ovviamente appena accedete poi se volete entrare sul vostro profilo post con l'id del post pagine filtrate in una certa maniera e così via quindi questo è proprio l'esempio classico di come dovrebbero funzionare gli URL nella nostra applicazione web abbiamo però un diciamo problema in questo momento per ora se voi provate a mettere un qualsiasi URL sulla barra del browser con una applicazione React di quelle che abbiamo scritto finora il risultato è che l'applicazione ritornerà sempre la stessa identica pagina quindi quello che abbiamo scritto in index.html o in index.js secondo come è configurato il quale è sostanzialmente diciamo questa pagina la quale sostanzialmente carica e monta sempre la stessa applicazione e tra l'altro appunto se lo fate perdete lo stato e viene ricaricata l'applicazione da zero abbiamo però diciamo l'opportunità anche di andare a interrogare qual è l'URL visualizzato correntemente e in questo caso potremmo cambiare quello che avviene nel metodo render dell'applicazione stessa quindi è vero che viene caricata sempre la stessa applicazione ma possiamo andare a chiedere qual è l'URL e di conseguenza mostrare qualcosa di differente a seconda dell'URL che viene visualizzato ci potrebbero quindi venire una serie di idee per diciamo realizzare le applicazioni web diciamo con le pagine con quello che abbiamo visto finora bene uno è diciamo il modo tradizionale questo è chiaro nel senso che se noi inseriamo per esempio dei link col tag a di html facciamo in modo che una volta cliccati il browser agisca il browser carica una nuova pagina questa però è la cosiddetta navigazione server side nel senso che il browser chiede al server di caricare una nuova pagina e il server gli invia una nuova pagina quindi di per sé appunto potendo interrogare l'URL e sapere qual è quindi customizzare il metodo render potremmo anche fare così però ovviamente non è consigliato e adesso vedremo perché quindi il server ritorna una copia della stessa applicazione l'applicazione va a chiedere quale è l'URL e decide che cosa far vedere è una possibilità però diciamo pro e contro come tutto ovviamente è molto semplice funziona perfettamente nel sistema di navigazione del browser perché effettivamente il browser va a chiedere una nuova pagina quindi non c'è niente di nuovo da questo punto di vista per il browser il contro è che ogni volta che facciamo un click l'applicazione viene ricaricata e viene rimontata lo stato viene perso quindi quello che mettete in this state banalmente nell'applicazione react è perso e deve essere ricaricato dal server quindi se l'avate caricato da un server rest dovete andare di nuovo a fare la fetch aspettare che vi diano informazioni visualizzarle e così via e poi bisogna fare attenzione diciamo a quello che viene fatto con gli url e con i links e quindi bisogna mantenere un po' di consistenza per appunto riuscire ad avere un funzionamento come desideriamo con questo approccio che come detto sconsigliamo potremmo pensare ad un'alternativa fare la navigazione interamente dentro react quindi non usare mai il tag A non mettere mai alcun link in questo senso e quindi evitare che il browser carichi una nuova pagina e semplicemente usare gli event handlers abbiamo l'onclick tutte le volte che c'è qualcuno che clicca noi rispondiamo e facciamo qualcosa facciamo all'interno della pagina una variabile di stato o più variabili di stato cioè per esempio quella che abbiamo usato finora negli esempi in modo in che modo siamo insomma in modo view add edit eccetera e questo sostanzialmente ci consente di capire fondamentalmente su quale pagina siamo cioè il mod di fatto è la pagina sulla quale siamo e per aggiustare la questione degli URL potremmo usare un API che ci mette a disposizione il browser per manipolare la history degli URL e quindi sostanzialmente mettere degli URL finti nel momento in cui fondamentalmente cambiamo di stato anche questo approccio ha dei vantaggi e degli svantaggi ovviamente il vantaggio rispetto a prima è che non è necessario ricaricare nulla e lo stato viene mantenuto gli svantaggi sono che mischiamo lo stato relativo alla navigazione in questo modo con lo stato invece relativo all'applicazione la lista dei to do la lista dei task degli esami eccetera siccome facciamo certe operazioni manualmente che sono per esempio la manipolazione in questi URL chiaramente tutte queste operazioni sono potenzialmente foriere di errori e quindi abbiamo una necessità di fare estrema attenzione a queste operazioni e poi non ci funziona il meccanismo per il quale noi usiamo un URL lo mettiamo sulla barra degli URL del browser e carichiamo l'applicazione visualizzando quella pagina o meglio ci funziona perché possiamo andare a analizzare con l'URL ma la logica è separata da quella del resto dell'applicazione quindi c'è una duplicazione di logica cioè dell'algoritmo che deve sostanzialmente andare a decidere che cosa visualizzare e serve scrivere del codice in più esclusivamente per questo scopo qual è quindi la soluzione a tutti questi problemi? ebbene usiamo un router che adesso andiamo a vedere nel dettaglio i problemi relativi alla navigazione multipagina quindi per l'applicazione single page application che però vogliono apparire come applicazioni con più pagine e la relativa gestione degli URL sono tipicamente gestite dalle cosiddette libraries che fanno da router quindi un router scritto in javascript deve essere in grado di gestire la modifica della location dell'app cioè in parole povere l'url quello che viene visualizzato sulla barra del browser e anche aiutarci diciamo all'interno della nostra applicazione a calcolare quali componenti nel nostro caso di React sono da visualizzare ne dobbiamo fare rendere ad ogni location o location inteso come pagina per ogni URL che visualizziamo in principio dovrebbe funzionare come a livello di principio dovrebbe funzionare come scritto qui quindi nel momento in cui clicchiamo su nuovo URL evitiamo che il browser faccia qualsiasi cosa quindi non facciamo diciamo caricare al browser nulla blocchiamo il comportamento di default invece istruiamo l'applicazione React dicendogli di fare lo switch quindi attivando e disattivando componenti a seconda della pagina su cui andiamo a spostarci come facciamo a realizzare tutto ciò in React bene abbiamo diciamo bisogno di un router per React React di suo non contiene una funzionalità specifica per fare routing però come immaginate vista la popolarità del diciamo sia del problema sia del framework React ovviamente ci sono tante librerie a disposizione che fanno che implementano questa funzionalità quella più comunemente utilizzata è React Router che potete installare facilmente tramite React Router DOM che si porta dietro ovviamente la sua dipendenza React Router quindi abbiamo il router specifico per le applicazioni che usano il DOM cioè quelle del browser di cui ci occupiamo quali sono le caratteristiche di questa libreria bene prima di tutto è in grado di connettere la navigazione che facciamo all'interno della nostra applicazione React con le diciamo caratteristiche native di navigazione del browser quindi di gestire tutta la questione degli URL della storia degli URL avanti indietro eccetera eccetera in maniera automatica è in grado di mostrarci selettivamente i componenti secondo la route correntemente visualizzata cioè quindi l'URL correntemente attivo quindi possiamo scrivere delle regole che diciamo ci dicono quando sono attive sulla base del match che andiamo a fare con sotto party o l'intero URL che abbiamo diciamo attualmente attivo questo si intenderà a modificare la logica che andiamo a scrivere nel metodo render dei componenti perché se no ricadiamo nel caso precedente ci facciamo le cose a mano e non serve nulla invece qui avremo un modo che vediamo tra un istante di appunto abilitare e disabilitare la visualizzazione di questi componenti a seconda della route nella quale ci troviamo è relativamente facile da integrare e da capire anche perché essendo pensato per React utilizza questo scopo quindi lo scopo del routing dei componenti dei normalissimi componenti React come viene detto è semplicemente React sono dei componenti React come funziona fondamentalmente ci sono messi a disposizione alcuni componenti che adesso andiamo ad analizzare più nel dettaglio componenti React quindi nel momento in cui vogliamo inserire dei link quindi simulare il caricamento di una nuova pagina tramite il clic su un link abbiamo diversi tipi di link tre tipi di link il link classico il link il nav link e il redirect che simula appunto una specie di redirect per invece determinare che cosa dobbiamo visualizzare quindi dentro la logica dell'applicazione quindi all'interno del metodo render sostanzialmente useremo dei componenti speciali che si chiamano root e switch e per far funzionare il tutto l'intera applicazione è wrappata quindi è messo dentro in un componente router e questo ce lo possiamo aspettare così tutto quanto è figlio dal punto di vista della struttura JSX di router e quindi sarà gestito tutto dal router della libreria il meccanismo funziona a grandi linee così poi ci addentriamo nei dettagli tra un istante diciamo la nostra applicazione ad un certo punto contiene dei link sotto forma di componenti link che puntano a diverse location quindi la location principale slash about slash dash per la dashboard e così via qualcuno clicca su questo componente ebbene per esempio su about si andrà la libreria andrà ad analizzare diciamo i componenti organizzati sotto forma di route e queste route fanno il match diciamo dei dei vari url e decidono a seconda di quale di queste route fa il match quale componente visualizzare quindi lo switch ci dice devi scegliere uno di questi il primo che fa il match con quello che abbiamo richiesto per esempio slash about è quello da utilizzare per decidere che cosa visualizzare e verrà visualizzato quindi il componente about e tutto avviene all'interno del router che ovviamente gestirà per noi come abbiamo detto l'interazione col browser per quanto riguarda gli url la history eccetera vediamo quindi qualcosa di un po' più in dettaglio riguardo i vari componenti forniti da questa libreria bene prima di tutto il router sono disponibili diversi tipi di router quindi browser router hash router memory router native router static router a noi interessa fondamentalmente il browser router che usa dei normali url e sostanzialmente l'html5 location api che è quella che ci consente di interagire appunto con la barra del url del browser e quindi andare a gestire la storia la cosa viene visualizzato lì e così via questa è la soluzione raccomandata per i browser moderni richiede un minimo di lavoro sul server web di configurazione perché sostanzialmente bisogna andare a setare dei parametri per evitare che ci siano appunto dei comportamenti diciamo particolari nel momento in cui caricate direttamente un url che non è sostanzialmente l'url principale è facilissimo da usare come sempre come tutte le librerie un import browser router asrouter lo chiamiamo router così facciamo prima e siamo flessibili frontrouter router dom e quindi questo si comporta con i normali url volendo è possibile diciamo usare anche l'hash router che mette all'inizio il cancelletto negli url così che il resto dell'url sembra un frammento e quindi i browser più vecchi che potrebbero avere dei problemi nel momento in cui si va a cambiare appunto la location funzionano lo stesso e in questo caso ovviamente non c'è richiesta configurazione sul server perché fondamentalmente andiamo sempre a richiedere la slash cioè quindi la cartella principale perché il server interpreta automaticamente tutto ciò che viene dopo il cancelletto come qualcosa da buttare via perché è il modo di creare link interni alla pagina ovviamente come abbiamo detto prima il router deve componente deve essere messo intorno all'intera applicazione quindi tutta l'intera applicazione deve essere wrappata all'interno di router dicevamo della configurazione da fare sul web server ovviamente se usiamo il development server di react qualcuno ha già pensato risolvere il problema per noi e quindi non è necessario fare alcuna configurazione nel momento in cui però dobbiamo andare a mettere su un server web differente dobbiamo preoccuparci di fare questa configurazione che per esempio se usiamo express può semplicemente essere quella di usare un percorso statico build quindi dove i file sono serviti staticamente e di dire che tutto ciò che viene con slash asterisco quindi qualsiasi cosa viene gestito inviando build index html e poi ci penserà l'applicazione a gestire la cosa quindi come vi dicevo prima se invece appunto avessimo l'ashrouter diciamo non c'è bisogno di questo perché tutto il resto dopo l'ash viene direttamente scaricato buttato via da qualsiasi server web per come funzionano gli url diciamo nell'html standard vediamo ora come funziona il render selettivo che appunto avviene all'interno del componente root quindi tutto il contenuto brappato da root verrà renderizzato solamente se l'url indicato è matchato quindi si corrisponde a quello che è indicato nel root quindi abbiamo la possibilità di specificare diversi attributi di questo componente il più importante ovviamente path che dice qual è il modo di fare il match dell'url quindi di default prende una reg exp che è un'espressione regolare che nel caso di una stringa coincide semplicemente con la stringa se vogliamo fare un match esatto o meglio coincide con cioè questa stringa deve essere una sottoparte della stringa da matchare e quindi anche le stringhe sono espressioni regolari in questo senso ed è l'elemento che viene usato per decidere se il componente root fa il match poi abbiamo l'attributo component che dice sostanzialmente qual è il component da renderizzare nel caso in cui il path faccia il match poi eventualmente ci sono altri attributi per esempio quando vogliamo che il match sia esatto esattamente la string quindi non interpretarla come espressione regolare che fa il match di tutto ciò che contiene uno slash ok quindi vedete che il codice è relativamente semplice e intuitivo quindi router due route una pagina per route e in ognuna di queste pagine c'è un componente differente in una home e nell'altra newsfeed approfondiamo un pochettino di più le opzioni di questo route perché sono importanti perché sono la base per scrivere correttamente le route e le nostre pagine quindi path abbiamo visto è l'espressione regolare che viene utilizzata per fare il match con l'url ovviamente non dobbiamo dimenticarcela perché altrimenti abbiamo un match sempre quindi non è che non matcha nulla ma matcha sempre ci sono delle opzioni una l'abbiamo intravista exact quindi confronto esatto con la stringa non viene interpretato come un'espressione regolare ma come una stringa da fare il match esatto strict se abbiamo uno slash alla fine allora l'url deve avere lo slash alla fine in molti casi su molti web server è equivalente ed è per questo che c'è questa opzione per decidere se vogliamo questo comportamento o no cioè l'equivalenza o no se inseriamo strict se c'è o non c'è l'uno non è equivalente sensitive fa sì che il match diventi case sensitive attenzione che il default è insensitive metodi per fare render in route uno l'abbiamo visto è quello del component quindi se il path fa match facciamo render del componente messo come valore di component è anche possibile specificare il componente facendo nel nesting dentro root come come avevamo visto nell'esempio precedente quindi se torniamo indietro quindi ecco in questo caso avevamo messo non component uguale ma l'avevamo messo all'interno quindi era annidato all'interno della root possiamo usare l'attributo render nel quale passiamo una callback una funzione come sempre in javascript che restituisce un risultato che verrà renderizzato e questo risultato per esempio può essere un'espressione jsx quindi componente c1 dentro il quale mettiamo il componente c2 se usiamo children il render viene sempre fatto ma viene passato un parametro che è utile per personalizzare quello che restituisce la funzione e quindi sostanzialmente customizzare il risultato secondo il risultato del match in tutti i casi in tutti i casi il componente che lo scriviamo così o la funzione riceve anche tre props quindi le properties di react uno è match che è lo status di matching della root un'altra è la location la diciamo l'url corrente nel browser e uno è un riferimento a un oggetto di tipo history che col quale possiamo interagire con la history del browser quindi abbiamo a disposizione in tutti i casi questi tre oggetti che possiamo eventualmente utilizzare nelle nostre espressioni valutazioni e così via nel nostro codice come funziona l'oggetto match quindi nel momento in cui usiamo component abbiamo this props match dentro il componente e ovviamente l'abbiamo diciamo a disposizione per da usarne il nostro codice nel momento in cui abbiamo visto render o children ce l'abbiamo come parametro match è composto da una serie di elementi quindi è un oggetto e ha una proprietà params che è un oggetto che contiene delle copie chiave valore che corrispondono alle parti dinamiche del segmento quindi se scriviamo diciamo la regola del match in una certa maniera era un po' come facciamo sul server express ma qui siamo dentro la parte client ci vengono automaticamente diciamo interpretati i parametri corrispondenti nel nostro url e messi a disposizione direttamente come chiave valore quindi più facili da accedere nel codice is exact è una proprietà di tipo boolean che è vera nel caso in cui tutto l'url è matchato quindi non ci sono caratteri che avanzano quindi il match dell'espressione regolare corrisponde esattamente al url path e url sono due stringhe e sono diciamo utili per costruire root o link annidati e sostanzialmente ci vanno a dire qual è la porzione di url che viene matchata e quella che invece è rimasta come percorso precedente fate solo attenzione che è possibile che con la proprietà children scusa con un attributo children match può essere può avere un valore null quindi siccome viene comunque richiamata la funzione anche se il match è sempre come dicevamo prima è possibile che non ci sia match dell'url e quindi in questo caso viene passato null i valori passati come path alle route possono avere delle parti parametriche con la sintassi due punti nome del parametro che è la stessa che abbiamo usato anche in express quindi è diciamo la stessa tipo di sintassi semplicemente perché è comoda da utilizzare quindi se abbiamo una route di questo tipo exact path che so post due punti di compone il post visualizzerà il post e l'id quello che viene scritto qui quindi tutto quanto ciò che c'è dopo lo slash di post sarà disponibile come match punto params il parametro di cui dicevamo prima punto id perché qui abbiamo scritto id quindi nel momento in cui vogliamo determinare che cosa visualizzare potremmo scrivere per esempio render aperta graffa aperta tonda match e quindi prende solo la parte match del parametro quindi solo il parametro scusate solo il parametro match passato alla funzione e andare a ritornare un jsx che è il componente post che avremmo preparato lo scopo passandogli come proprietà post che probabilmente è una property che prende il nostro componente per decidere quale post visualizzare e gli diamo l'oggetto che viene calcolato sulla base di match paramcd quindi sostanzialmente in p che sarà per esempio un array di oggetti che anzi scusate l'array è post e p che è l'ennesimo elemento dell'array andiamo a verificare se l'id è uguale all'id della stringa che abbiamo inserito come route per la stringa parametrica allora creiamo il componente post passando come props post che avrà come risultato l'oggetto diciamo l'elemento dell'array post che ha id uguale a quello che abbiamo specificato nella route così non dobbiamo ovviamente creare n.mila root ognuna per ogni valore del parametro che ovviamente non avrebbe senso veniamo ora al componente switch prima di discuterlo vorrei sottolineare una cosa cioè tutte le route in cui il path il path fa il match sono vengono visualizzate quindi viene chiamato viene creato viene ne viene fatto render secondo che abbiamo detto passiamo direttamente il componente piuttosto che una funzione che ci ritorna in componenti eccetera quindi diciamo così che di default root è inclusiva nel senso include tutto quello di cui riesce a fare il match però ogni tanto vogliamo renderizzare quindi visualizzare solamente una di un gruppo di root come possiamo fare a dirlo alla libreria appunto che ci fa routing bene c'è questo componente switch all'interno del quale possiamo includere tutta una serie di root o anche redirect se è necessario e lui ne sceglierà solamente una ci garantisce che ne sceglie solo una in particolare la prima che fa il match quindi le root qui incluse sono esclusive nel senso che una sola di queste verrà scelta e vi consigliamo di iniziare sempre con la regola più restrittiva di match quindi per esempio exact path slash richiede che ci sia solo lo slash questa è la regola più restrittiva path about dopo il quale potrebbe esserci slash qualcos'altro ovviamente è un po' meno restrittiva due punti user ancora meno restrittiva perché richiediamo qualsiasi cosa dopo lo slash che useremo poi come parametro adesso qui non è usato ma avremmo potuto metterlo appunto come componente eccetera e se se l'avessimo messo prima avrebbe fatto ci avrebbe catturato anche la root about perché avrebbe fatto il match una volta che troviamo una root che fa il match switch smette di controllare le altre root con nessun percorso è anche possibile fa sempre il match e possiamo creare un componente apposto per gestire questo caso pagina non trovata che è il tipico caso che è quello che succede con un server web vero nel momento in cui chiedete un url che non esiste veniamo ora ai componenti che ci consentono di navigare diciamo così abbiamo detto che erano tre uno di questi è il link il link è usato per attivare una nuova root ha un attributo tu all'interno del quale possiamo specificare l'url target nel quale ci interessa andare a finire può essere specificato tramite una stringa tramite un oggetto con questi elementi quindi eventualmente specificando anche uno stato come vedete oppure come una funzione che ritorna una delle due cose quindi la stringa o l'oggetto ci sono degli attributi particolari per esempio vi segnaliamo questo replace che anziché aggiungere l'url nella history degli url del browser va a rimpiazzarlo se casomai fosse necessario per qualche motivo e nel DOM di fatto andrà a creare un componente di tipo A gli eventuali attributi addizionali che mettete sono attributi che vengono applicati nel DOM direttamente al tag A che è quello del link quindi se voi andate poi a ispezionare il DOM nel browser vedete questo elemento A all'interno del DOM quindi un link che sembra un link a tutti gli effetti ma è un link sul quale sarà stato agganciato automaticamente dalla libreria un event handler nel momento in cui viene cliccato non si fa fare il caricamento del browser della pagina indicata ma viene tutto gestito lato client appunto dal router questo è il senso del meccanismo quindi qui vedete un esempio di due link appunto che possiamo sostanzialmente inserire che verranno renderizzati come A ma che non creeranno non causeranno il caricamento della pagina nuova perché appunto sono gestiti dal router qui vediamo alcuni dettagli sul destination object quindi il path name è la stringa che rappresenta il percorsa in search possiamo mettere eventuali parametri di query per esempio per parametri generati dinamicamente diciamo quelli dopo il punto interrogativo hash eventualmente se necessario usare un hash che non usato nel browser router quello che abbiamo detto di usare a meno di uso di browser vecchi e lo stato appunto è uno stato che è la parte di stato che vogliamo mantenere persistente alla nuova locazione quindi è utile per inizializzare lo stato dell'applicazione nel momento in cui la root è stata seguita quindi siamo andati alla nuova root e la nuova root è stata attivata abbiamo anche una versione speciale di questo link che è navlink che sostanzialmente è un link modificato per sostanzialmente usare automaticamente degli attributi di stile nel momento in cui l'url nel momento in cui match all'url quindi per esempio è utile per attivare automaticamente che so l'highlighting quindi la visualizzazione un po' diversa i termini di coloro e di evidenziazione del elemento correntemente selezionato in un menu e ci sono due attributi particolari utilizzabili a questo scopo invece del class name c'è l'active class name che a cui possiamo passare il nome di classe sostanzialmente classe css che viene aggiunta al class name in maniera automatica senza che dobbiamo fare nulla nel momento in cui l'url fa il match e la stessa cosa è possibile farla con active stile questo è un oggetto ed è l'equivalente dell'attributo style che possiamo specificare per dare uno stile locale all'elemento html ultimo componente redirect nel momento in cui incontriamo questo redirect questo forza la navigazione a una nuova locazione e viene usato per forzare diciamo lo spostamento dell'applicazione ad un nuovo url in maniera automatica quindi per esempio vi può succedere che sono event handler spesso avete bisogno di andare a saltare ad una nuova pagina che so il submit e il form è il classico caso in cui appunto abbiamo lendo submit prevent fault non vogliamo fare niente lato quindi andare a contattare il server quindi questa è sempre la prima cosa che facciamo e poi facciamo this state submitted true quindi cambiamo lo stato e facciamo appunto submitted true e nel render se if state submitted possiamo fare return redirect to slash o dove vogliamo andare a saltare come url quindi questa è la maniera più facile che possiamo utilizzare per sostanzialmente cambiare url da codice senza utilizzare senza rispondere ad un diciamo azione dell'utente come nel caso precedente invece con il link nav link quindi ad un click che per definizione nel comportamento tradizionale del browser ci avrebbe fatto cambiare pagina in quest'ultima slide è riassunto il comportamento dell'applicazione di esempio che è messa a disposizione sul github l'evoluzione di quell'applicazione client server di esempio che era stata messa a disposizione per far vedere i tre modi inizialmente i tre modi con i quali possiamo andare ad agire con un server rest e con create react app e quindi avere due server web contemporaneamente attivi quindi vi ricordo col course il proxy oppure il 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 build e quindi l'unico server web nel quale dobbiamo andare a copiare ogni volta che facciamo il build qui c'è un nuovo branch si chiama with router quindi l'applicazione è stata modificata e anche leggermente estesa e sostanzialmente per simulare una navigazione tra tre pagine la pagina principale sulla quale arriviamo quando la carichiamo quindi con la lista delle movies con un link e quindi qui abbiamo un component link che se cliccato ci porta all'url add che quindi visualizzerà il form quindi questa è un'altra pagina e poi i bottoni add cancel ci riportano sulla lista e nella lista abbiamo ancora un ultimo elemento che sono degli elementi cliccabili che sono delle icone gli occhi che ci consentono di visualizzare il dettaglio di un elemento della lista e quindi portano tutti al details slash un parametro così proviamo a usare anche un parametro che in questo caso è l'identificativo l'id del elemento che ci interessa cliccando in questa pagina diciamo che mantiene la lista e fa solo in più vedere l'informazione relativa di dettaglio relativa all'elemento ovviamente il bottone dell'occhio ha sempre lo stesso significato e quindi ci riporta la stessa pagina magari cambiando l'elemento e quindi di conseguenza cambiando quello che viene visualizzato qui sotto e poi abbiamo un link close e un link non è un bottone notate e quindi è fatto col link che di fatto chiudendo ci riporta alla vista slash e quindi alla lista senza altri dettagli andiamo ora a vedere quindi dal vivo questa applicazione quindi siamo sul sito github client server example e ricordatevi che dobbiamo andare a selezionare il branch corretto ma il link fornito nelle slide vi porta già direttamente a questo punto quindi la versione appunto con il routing quindi ho clonato il repository poi cambiate branch oppure scaricate lo zip io l'ho già fatto ho aperto il tutto in visual studio code notate che siamo nel branch corretto perché io ho clonato il repository e così posso andare a selezionare direttamente il branch di mio interesse in maniera anche relativamente semplice andiamo a dare un'occhiata all'applicazione e lato client che ovviamente è la parte che ci interessa di più chiaramente partiamo da app quindi app è un solito componente diciamo di livello top che avrà diciamo il router che quindi diciamo realizza la nostra applicazione appunto che utilizza il react router come vedete noi portiamo react router dom e importiamo browser router come router quindi non quello hash ma il browser e poi gli elementi che di volta in volta ci ci servono prima di adentrarci ulteriormente nel codice vi faccio vedere l'app in funzione quindi ho lanciato sia il server sia il client e ho caricato su sul browser solito localhost 3000 e quindi viene fuori la app mymovies come vedete questo è cliccabile abbiamo una lista di di movies abbiamo un link che tra l'altro possiamo andare ad esplorare e notate come dicevamo nelle slide che viene inserito da react di fatto un a quindi un link effettivamente cliccabile come i link tradizionali faccio un evento agganciato che ovviamente sarà di react e che react router che diciamo andrà a gestire il caso in cui faccio il click e quindi andrà ad aggiornare la barra degli url andrà a cambiarmi la visualizzazione e così via quindi ho fatto add passo nella modalità aggiunta di una nuova movie quindi test con lo score che desidero io add e di nuovo ho cambiato la route e sono tornato al punto iniziale dove però ho in più il mio test schiaccio la selezione per la visualizzazione e vedo la mia visualizzazione e notate di nuovo l'url detail 7 che è l'id scritto anche qui per nostra comodità notate che nel momento in cui premo questo resta evidenziato perché ho usato come vedremo nel codice dei nav link piuttosto che dei link questi sono appunto come possiamo vedere degli A quindi dei link ma sono dei nav link che andranno a questa proprietà che quando fanno il match con il diciamo percorso a cui corrispondono si auto evidenziano e dicevamo possiamo eventualmente fornire una classe speciale per questo comportamento ma di default inserisce active e con bootstrap sostanzialmente rimane automaticamente evidenziato link di chiusura ci riporta alla pagina iniziale e poi abbiamo link diciamo di delete che non ci fa muovere di pagina come vedete sostanzialmente ci riporta la pagina iniziale movies essa stessa ci riporta alla pagina iniziale quindi ecco tra l'altro se ci passate sopra vedete qui nell'angolino in bassa sinistra sono link sono degli A e quindi effettivamente si comportano proprio come dei link che vi dicono dove vi porterà il click però notate che la pagina non si ricarica quindi non si viene ricaricata dal server chiaramente sembra che si ricarichi ma è tutto molto più veloce perché tutto funziona sul lato del client torniamo quindi nel codice siamo in app andiamo a vedere il router che intanto tutta questa applicazione è stata realizzata utilizzando react bootstrap anziché bootstrap quindi componenti messi a disposizione in react bootstrap anche per fare un po' di pratica e fornire esempi un po' diversi quindi c'è un container che contiene tutto quanto una specie di div diciamo così che contiene il titolo il titolo è un link quindi di nuovo questo elemento particolare fornito dal reactor router che punta a slash quindi quando clicchiamo su my movies andiamo a sempre in questa posizione della nostra diciamo nella pagina principale quindi navighiamo come se avessimo cliccato su un link e carichiamo lato client la nostra pagina principale questo è il contenuto del link my movies e in più forse avete intravisto che comparivano dei puntini nel momento di cui eravamo in state loading che è lo stato iniziale loading true e fino a quando non ho ricevuto tutto il contenuto dall'API rimango in loading nel momento in cui lo ricevo setto il mio stato e nel mio stato mantengo la lista delle movies quindi dei film e dico che ho terminato di caricare quindi sparirà questi puntini che diciamo ci indicano che l'applicazione sta lavorando per caricare dopodichè abbiamo uno switch fondamentalmente tra due route una è quella dell'add e l'altra è quella della pagina principale quindi solo una delle due viene visualizzata a seconda dell'urlo sul quale si trova correntemente l'applicazione quindi sull'add c'è il form e basta come avete visto da prima invece nella pagina principale diciamo ci sono le varie righe corrispondenti ai film creati da questo componente movie table che adesso andremo a vedere row deriva da react bootstrap quindi non è speciale in questo senso non è stato creato da noi possiamo anche annidare altri switch come vedete all'interno del di uno switch quindi semplicemente questo dice a react che solo una delle due route quella che match per prima deve essere considerata quindi in fondo alla tabella avremo se c'è se siamo su detail id avremo la visualizzazione della parte del detail id e avete visto che c'era sostanzialmente heading quindi il dettaglio del movie cioè fondamentalmente questo semplice esempio il titolo se invece non c'era nulla quindi siamo nella condizione in cui abbiamo la movie table in fondo c'era il la root la scusate il link add perché eravamo nella condizione di add quindi se siamo nella condizione di add quindi sulla pagina di add verrà visualizzato andiamo dunque a vedere come sono fatti gli altri componenti cominciamo dalla tabella la tabella che non è neanche altra una tabella fatta col componente di bootstrap componente react di bootstrap con il suo header e il suo body che contiene una serie di children che sono sostanzialmente gli elementi movie row quindi creati a partire da movies che viene passato dallo stato presente in app viene prima ordinato sulla base del dello score e poi creato nella forma che serve quindi come nuovo array di elementi di componenti anzi movie row e quali ricordatevi essendo un array dobbiamo segnare un id questo ce l'abbiamo il movie id e poi gli altri attributi che eventualmente servono alla loro gestione movie row non è niente altro che la riga e quindi è un return tr td con tutte le varie informazioni star se semplicemente ci stampa diciamo quella iconina quelle iconine che vediamo appunto nella visualizzazione ne crea tante quante dette da da questo parametro abbiamo poi un'ultima cella nella tabella che sostanzialmente contiene due elementi uno è normale span quindi niente di particolare che però sul quale abbiamo inserito un handler da un click quindi andiamo a chiamare il delete movie con l'id che corrisponderà al movie id e che sarà una funzione implementata in app e poi abbiamo quello che dicevamo prima nav link che così rimane automaticamente selezionato ed è come se fosse un link cliccabile che ha sostanzialmente l'aspetto di un dal punto di vista grafico di un bottone perché abbiamo dato la classe appunto del bottone e nel momento in cui è cliccato ci porta al dettaglio e quindi ha un tool mettendo un link detail con l'id e e quindi appunto tutte le informazioni relative all'id ok possiamo andare a vedere che la parte sotto quindi nel momento in cui abbiamo il detail con l'id era stata implementata qui direttamente in app quindi non abbiamo un componente apposto l'abbiamo inserita direttamente qui e come funzione assegnata a render quindi callback da chiamare su render e fondamentalmente va a prendere il titolo del movie che ci interessa andandolo a prendere fondamentalmente dal props match params quindi abbiamo un oggetto che contiene qui tre attributi match e gli altri due sul quale andiamo a cercare in params l'id che corrisponde a quello che vediamo nella root e in questo modo sappiamo qual è quello da selezionare col find andiamo a prenderci l'oggetto e poi lo elaboriamo come vogliamo cioè andiamo a prendere il titolo e andiamo a scrivere il nostro heading eccetera detail form e tutto quanto infine andiamo a vedere il movie form che è un normale form è semplicemente stato implementato con i componenti bootstrap react anzi react bootstrap quindi form form button ok però il funzionamento è analogo a quello dei form che abbiamo visto già fino a questo momento quindi abbiamo nostri diciamo gruppi di label più il controllo quindi per esempio la selezione della possibilità di segnare stelle 1 2 3 eccetera eccetera abbiamo il bottone di submit abbiamo poi un link che in realtà di nuovo prende l'aspetto del bottone grazie allo stile che abbiamo fatto in bootstrap che fa il cancel questo possiamo andarlo a rivedere ecco è giusto qui quindi in realtà c'è poca differenza tra bottoni e diciamo bottoni reali button che quindi fanno sapere il form come vedete qui in basso a sinistra non si vede nulla e link quindi se questo lo andiamo a visualizzare è un A mentre quello sopra è un button e infatti ci compare il link corrispondente ma diciamo come lo renderizziamo è solo una questione di visualizzazione abbiamo quindi il form che viene sottomesso quindi con handle submit quindi nel momento in cui premiamo il bottone di submit automaticamente sottomettiamo il form quindi si scatena l'evento on submit sul form intero che quindi va a richiamare l'endor submit che è sotto come solito come prima cosa fa prevent default e poi va a chiamare l'add movie sarà un metodo di app che è stato passato a questo componente come props come siamo abituati a fare e metterà l'oggetto che corrisponde alla movie quindi col titolo e lo score presi dallo stato perché abbiamo i soliti handle change sull'evento on change per quanto riguarda il titolo quindi è normalissimo form control è fondamentalmente è fondamentalmente un campo di testo e nel momento in cui cambia qualcosa andiamo a settarlo nel nostro stato quindi add movie e andiamo quindi a chiamare il metodo in app che sarà presente ecco andiamo a sinistra quindi qui sotto add movie che quindi va a fare ecco set state loading true far apparire il fatto che c'è l'applicazione che sta affettuando delle operazioni diciamo con il server questo ci viene visualizzato dicevamo con quella parentesi con i tre puntini nel momento in cui facciamo qualche operazione e rimaniamo in attesa poi qui abbiamo scelto siccome non dobbiamo fare gestione degli errori non volevamo farlo per non complicare troppo l'esercizio di appunto fare await api add movie che sarà ovviamente una fetch in cui facciamo le wait prendiamo il json e lo ritorniamo quindi un'operazione asincrona e una funzione asincrona e dopo che abbiamo fatto l'aggiunta facciamo il ricaricamento di quello che c'è sul server e ovviamente andiamo a settare movies e di nuovo loading false per dire che abbiamo finito le nostre operazioni di aggiornamento stessa cosa per il delete ma che questo è scontato ancora una cosa sul movie form dopo l'add movie notate che cosa succede il set state va ad azzerare il contenuto titolo score quindi il valore assegnato e cambiamo una proprietà key questo è per diciamo fare il ridisegno diciamo del form perché cambiamo scusate la ricreazione del form perché nel momento in cui cambiamo l'attributo key che adesso vi faccio vedere come utilizzato abbiamo come effetto collaterale quello del fatto che il componente viene ricreato in react e poi abbiamo submit true focalizziamoci prima su questo submit true che è più importante submit true che ovviamente all'inizio è false ecco notate prima non l'ho menzionato apposta ma che nel render la prima cosa che si fa è if state submitted quindi è true non c'è scritto ma ovvio per come funziona l'if in javascript che è così return e abbiamo corredirect di cui parlavamo nelle slide che ci riporta la pagina principale quindi la pagina form cioè la pagina slash add che è quella che crea il form ci porta alla pagina principale abbiamo poi questo key che è inserito come attributo del form ed è un attributo speciale perché è quell'attributo di react che si usa nelle liste ma che può anche essere utilizzato di fatto per dire a react che il componente è cambiato e quindi va ricreato da zero quindi col suo stato iniziale che viene inizializzato nel costruttore quindi non deve continuare a esistere in movie form di prima ma deve essere creato uno nuovo da zero nel momento in cui arriveremo qui ok abbiamo quindi visto sostanzialmente come funziona il meccanismo di navigazione con il router o meglio con questa libreria che funziona con react che ci fornisce il router nel caso DOM quindi all'interno del browser vi faccio notare ancora un'ultima cosa ossia che per quanto riguarda il server non è stato necessario fare alcuna modifica il server in questo caso è uguale a prima e non c'è niente di diverso rispetto a quello già presente nelle versioni diciamo che mostravano la semplice interazione client-server con l'API REST quindi tutto uguale a prima senza alcuna modifica perché appunto funziona tutto lato client e quella cosa che dicevamo che deve essere sempre servita per ogni URL l'applicazione quindi per esempio adesso scriviamo detail che so 6 viene automaticamente gestita dal server interno del creator react app quindi qualsiasi cosa scriviamo viene sempre servita la stessa pagina ecco intravedete anche tra l'altro i puntini nel momento in cui c'è qualcosa da caricare fate caso i puntini di fianco alla scritta my my movies che compaiono solamente per un istante nel tempo necessario a fatturare criticamente e poi a farlo nel momento in cui è terminato spariscono grazie a quella set state che porta il loading a false bene direi che possiamo terminare qui questa lezione grazie per l'attenzione e a presto grazie a tutti